Vai, vado. Nonostante la pioggia coloriamo è andato molto bene e la prossima sicuramente ne faremo un'altra e dovremo trasformare tutti questi iscritti per questo evento in futuri donatori e cercare di allargare il più possibile il nostro gruppo giovani, Avis, nel trasformare ovviamente i maggiori donatori e ecco, c'è una grande partecipazione e ringrazio a tutti.